Il 17 settembre 1962 l'allora primo cittadino di Mistretta, dottor Giuseppe Braganica, direttore sanitario dell'ospedale Santissimo Salvatore, inaugurò la stele alla cui sommitavi è stata posizionata l'effigie della Santa Vergine Maria, che dalla cima del castello domina da 56 anni la città di Mistretta, la cui popolazione da sempre ha avuto forte e grande devozione e ha affidato le proprie sorti alla mamma del Signore. Quindi da 1962 la comunità dei fedeli di Mistretta, in questo periodo dell'anno, rinnova una tradizione a cui tiene molto, ovvero il piccolo pellegrinaggio verso la sommità del castello per poi prendere parte alla Santa Messa, con cui si ricorda questa data e questo evento così importanti. Perciò ieri, anche grazie a una piacevole temperatura, intorno alle ore 16 molti fedeli si sono adunati dinanzi il Santuario della Madonna dei Miracoli e poi, in corteo e in preghiera, hanno iniziato questo piccolo pellegrinaggio verso la cima del castello a Mastratino. E giunti qui hanno partecipato alla Santa Messa, che è stata ufficiata dall'arciprede di Mistretta, Monsignor Michele Giordano. In Zomba si è rinnovata una tradizione importante, con cui la comunità dei fedeli mistrettese ha voluto ricordare la nascita di un monumento, che è diventato anche uno dei simboli e dei tratti distintivi del centro nebredeo.